buonasera bentornati su gente di ruolo io sono antonio con me la squadra completo dei giocatori che tramite gli occhi dei loro personaggi in questa giornata luminosa nell'isola di okame nell'oceano di fronte a rokugan vedono gli onorevoli sfidanti scendere da questa barca dopo giorni e giorni che le loro pianificazioni vedevano di sistemare l'isola per poter rendere questo luogo un luogo degno della partita che verrà giocata una partita di go e nel rispetto di quelli che sono gli ordini dell'imperatore che qui li ha voluti per far sì che tutto quanto avvenisse in un clima il più sereno possibile qualche centimetro probabilmente più avanti agli altri una bellissima donna vestita in ambiti eleganti che si probabilmente erge a diplomatica del gruppo doji azuko interpretato da luca quel mezzo passo scostato dal gruppo esattamente nella nel fianco sinistro di doji modo da poter estrarre la spada ed eventualmente difendere non perché vi sia effettivamente una reale minaccia ma probabilmente per semplice congenita programmazione di qualcuno che è stato abituato a difendere sta un ragazzo temprato dal esercizio fisico e con gli occhi probabilmente velati da qualche notte non troppo non troppo serena buonasera dario shiba shinsuke e in un posto assolutamente imprevedibile del quale io non ne ho la più pallida idea e ci devo dire a lui un giovane uomo un ragazzo un po più disordinato con gli occhi vispi si guarda intorno curioso della scena kitsune gentaro nilo dov'è il tuo personaggio in questo momento e premete è quello che è rimasto un pochettino più indietro perché vuole presentare il suo gufo e dunque stanno svolazzando delle penne di gufo in giro tentando di metterlo in una posizione onorevole e ordinata esatto e intorno a voi a fare a fare arco a fare pubblico tutta quanta la cittadinanza quella poche anime qualche svariata decina di anime i popolani di questo villaggio guardano con occhi ammirati anche un po intimiditi queste figure scendere da un elegantissima e ricca nave che di fattura evidentemente costruita dal clan della mantide però porta la livrea le vele e le insegne del clan della gru e da questa nave che sembra capace di solcare dividere in due l'intero oceano appunto stanno scendendo queste persone una è un anziano signore vestito con i colori e soprattutto con le insegne del clan del granchio ha una barbetta molto ben ordinata sul mento i capelli cominciano a essere ormai sparuti e porta una pipa momentaneamente non accesa ma la tiene in mano nel momento in cui scende da questa da questa barca lungo quello che è l'instabile molu in legno che porta al sicuro della spiaggia e vedete in lui un uno sguardo abbastanza austero un portamento nobile e in fianco a lui un vecchio servitore probabilmente più o meno della sua stessa età quindi anche lui con il passo lento e un po incerto per un'età prossima alla senilità accompagnarlo in questo suo camminare e dal lato totalmente opposto se se ne potesse fare uno dello spettro del dell'umanità vi è la seconda la seconda figura che scende da questa da questa nave e una giovane donna probabilmente forse di qualche anno più vecchia di te d'oggi e e estremamente in forma con le spalle le spalle in mostra le braccia nude cosa assolutamente come dire fuori fuori contesto insomma non è educato mostrare altro che non che non le mani è il minimo necessario e dai suoi modi già dal modo di camminare dai gli ampi tatuaggi che porta sparsi per il corpo e dal vestire informale così semplicemente perché sembra venuta da un altro pianeta la riconoscete come un membro del clan del dragone il cui motto è find your way trova la tua via ed è per questo che sono detti e chiacchierati da tutti gli altri membri di tutti gli altri clan come matti come cavalli perché a tutti gli effetti la via di ognuno lo può portare anche a soluzioni situazioni abbastanza disticevoli comune è la follia dell'illuminazione che è a un certo punto il modo per dire che qualcuno effettivamente sbarella di brutto questa ragazza scende con fare curioso guardandosi attorno con occhi illuminati probabilmente colpita dalla bellezza naturale di questo posto i due si fanno avanti nella vostra direzione cercando e trovando in voi gli unici interlocutori degni lascio parlare logicamente doji che anche mezzo passo avanti sì anche a livello alcolico a livello di giocatore io mi immagino doji che ci è sparata questi tre sacchè stamattina sapendo che sarebbero arrivati gli ospiti sì che poi nel segreto femminile in realtà è anche possibile però noi non lo diciamo ma noi non lo non vorremmo mai rovinare l'opinione che gli ascoltatori hanno di doji vai e beh io faccio un passo avanti e mi inchino il più profondamente possibile non arrivo a terra perché il suolo non mi consente di farlo e dico porgo i miei omaggi a voi notabili che ci illuminate della vostra presenza anche in un posto in un luogo così remoto e il l'onorevole caiu perché conoscete il nome di queste due persone e lui è caiu ezumu della famiglia caiu che sono gli ingegneri del clan del granchio e lei è togashi fusa e vedete che caiu san risponde al tu inchino molto più velatamente di quello che fai tu probabilmente anche perché a parità tu non conosci il suo rango però anche se fosse pari al tuo solo per anzianità gli è permesso di essere un po più leggero nei convenevoli e dice questo luogo andrà benissimo se così è stato decretato all'imperatore prego fateci strada mi rialzo anch'io dall'inchino che di sicuro abbiamo fatto tutti e loro se solo il gufo non si è inchinato e dopo di che si rende conto comunque di aver mancato il l'occasione di presentarsi e dice il mio nome è caiu izumu e sono funzionario al castello di chiude nida e grazie alla magnanimità dell'imperatore mi è stato concesso questo questo piacevolissimo incarico e poi si gira verso togashi fusa e guardandola senza guardarla perché ovviamente sarebbe sconveniente guardarla viste le sue nudità e ma dalla sua età può comunque in qualche modo risultare assolutamente trasparente a questa cosa e dice per poter quindi finalmente concedermi un po di tranquillità con uno sfidante degno delle più grandi nodi e vedete fusa e in qualche modo essere a tutti gli effetti non non presente alla cosa si sta guardando intorno come uno che è appena è sceso in una stazione di treni e sta vedendo di capire dov'è la stazione della metropolitana si guarda intorno come se voi non fosse lì per lei come se gli abitanti non fossero lì intorno tutti quanti che guardano loro ma con una nonchalance inconcepibile mi piace probabilmente sta cercando la pagoda oppure sta in un qualche modo prendendo dentro di sé tutta questa scena che per quanto sia selvaggia esotica e dunque ha una certa bellezza naturale per sottolinearla dico indicando la pagoda con con il braccio se che non ha sopra il gufo indico indico la pagoda e dico abbiamo pensato di come c'è stato istruire preparare il luogo per il vostro il vostro il vostro scontro e verrà accompagnato dalla nera roccia vulcanica sull'orizzonte della scacchiera di go e da una parte e dall'altra dalla schiuma bianca del mare e prende un profondo respiro gentaro e tu gasci sorride a questo seguendo con lo sguardo la tua descrizione prima verso il profondità del villaggio oltre le case dove si vede a malapena il tetto della pagoda per poi guardare vulcano il mare sorride in qualche modo compiaciuta e cinge le mani e fa un inchino verso di voi questa permanenza sarà sicuramente un piacere come già lo è stato l'arrivo qui la guardo senza inarcare un sopracciglio ma devo impiegare ogni energia per non farlo e comincia a incamminarsi senza bisogno che voi le facciate strade in libertà diciamo attraverso il villaggio mentre vede c'è che caio aspetta che siate voi a fare strada mentre comunque i marinai stanno portando giù dalla nave dei piccoli pacchi probabilmente cose di particolare valore o di particolare come dire attaccamento affettivo che non sono state trasportate col grosso dei bagagli qui da boia e cominciamo penso sì un lento tour di presentazione si segue un montage di voi che perché che fate in qualche modo le gli onori di casa nel villaggio e caio che via via segue interessato annuendo con la testa guardando le stanze guardando la pagoda e un po il bosco e così e cos'è dietro di lui il suo servitore vedete che a un certo punto comunque giù dalla nave lui accende la sua pipa e comincia a fumare questo tabacco molto molto odoroso e mentre togashi fusai nel momento in cui voi via via mostrate qualcosa per l'ottanta per cento del tempo sta guardando qualcos'altro nel senso che mentre voi siete lì a mostrare la pagoda e tutto quanto lei probabilmente distratta a guardare un determinato cespuglio di fiori del del parco che cinge la pagoda e appunto sembra sempre leggermente fuori fase rispetto a dove l'attenzione vostra e del gruppo in generale ma ma anche 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 gentaro si ferma a fissare le cose che fissa per capire cosa sta cercando di cosa cosa ci trova in questo cespuglio d'altro canto d'altro canto se ho imparato in qualche modo ad apprezzare e ha anche ad essere più meno rigida con kitsune gentaro anche tuttavia considerato il fatto che comunque di un clan minore quindi in qualche modo ci posso stare che sia un po così svanito d'altro canto come per tutti gli altri dragoni trovo questo atteggiamento insopportabile sicuramente hanno una libertà nel med nel vedere il vedere il mondo che per voi è veramente praticamente eretica diciamo e nel momento che tu comincia a seguirla e comincia a capire cos'è la logica o comunque cos'è che attrae la sua attenzione vedi che lei ogni volta che ad esempio si ferma a guardare un qualcosa eccetera citta brani di poesie abbastanza abbastanza famose come dire cose di non cultura popolare ma cultura letteraria però abbastanza rinomate insomma che sottolineano in qualche modo la bellezza del momento la scena lo stato d'animo mi sciolgo anche se è un monaco io tra l'altro essendo un membro del clan del drago che è quello da cui arrivava la mia famiglia d'origine prima di essere affidato agli scibo sono un po un po teso quindi mantengo le distanze io se conosco questi pezzi letterali nel nel me stessa penso banalotta e riconosci quella anche qualche verso che magari come per dire non è stato messo all'indice però comunque noti che c'è una certa tendenza effettivamente a una letteratura che va verso una libera interpretazione della grande ruota e dei kami che ho capito mi distraggo dalla roma della pipa del del gran che a un certo punto e dunque lo vedo lo vedo lì che sta 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 camminando e gli indico la pagoda che immagino che si avvicina sempre di più e gli dico beh abbiamo fatto il possibile per per onorare il vostro la vostra permanenza qui e indico la pagoda e sono fiero anche se c'è non so niente di architettura effettivamente o poco niente e vedi il suo sguardo che è lo sguardo di un costruttore guardare la pagoda e praticamente in un paio di secondi vedi i suoi occhi vispi nonostante comunque l'età avanzata scattare di qua e la proprio immaginati che repentinamente si muovano all'interno delle orbite fissando questo quell'altro quest'altro dettaglio la struttura della pagoda nei legni negli incastri eccetera e inevitabilmente sul suo volto una certa preoccupazione oppure semplicemente un come dire un'accettazione del dato di fatto sicuramente ha trovato n mila difetti in in questo non tanto nel vostro intervento quanto nella struttura proprio costruttiva di questa di questa pagoda e per deformazione probabilmente professionale ma dopo questo secondo diciamo di critica professionale lo vedi comunque stendere un sorriso sul volto anziano e dirvi andrà benissimo tutto ciò di cui abbiamo bisogno è nostra scacchiera un po di tranquillità io ci metto il ci metto il tra virgolette il carico in modo molto leggero dico immaginate che quando siamo giunti qui purtroppo questa struttura era praticamente impraticabile impraticabile e non voglio neanche pronunciare quello che sfortunatamente abbiamo dovuto sistemare e che voi siate contenti del nostro operato è quanto più può renderci felici e onorati della vostra presenza e ok fa vedi che si facendo di sì con la testa ma non è assolutamente impressionato dalla cosa nel senso che ha già archiviato le sue le sue obiezioni le sue le sue critiche però sì non è neanche intenzionato esprimersi in gran lodi sulla cosa lui è abituato al grande muro comunque esattamente ma infatti vedi che è abbastanza restio sia ad accettare il fatto che cacchio qui le cose le fanno attaccate con lo sputo ma se viene un qualsiasi tipo di problema vengono giù come fuscelli al fatto del sì sì chiacchiere da gru ma questi sono i due estremi della sua reazione diciamo aspetta ma cosa vuoi che sia non ci dovremmo mica difendere dal tent come sul sul muro carpentiere e a quel punto un brivido scorre sulle vostre schiene nel momento in cui i marinai vedete che portano con enorme rispetto un praticamente un piccolo cubo di mezzo metro di lato coperto da una pesante telo decorato e arrivano lo poggiano al centro della pagoda poi lo scoprono lo puliscono da quella che erano gli involti che lo proteggevano nel trasporto vedete che viene scoperto il il goban quindi la scacchiera del per la partita del go e e questo ufficialmente rende finalizza tutti i vostri tutti i vostri sforzi e questa pagoda questo giardino ufficialmente adesso è completo per la partita se non fosse che arriva fusa e come ultima cosa dopo essersi guardate intorno dopo avervi sbigliato una preghiera silenziosa a mani giunte prende il goban e lo vedete tipo girarlo di 30 gradi e poi lo riguarda felice della sua scelta e fa un cenno con la testa guarda il suo sfidante e quale anche lui chiude gli occhi e fa un breve inchino in avanti come non si sa se in assenso o a condiscendenza e prende una lunga boccata della pipa e anche poi fatto la comunque il giro un attimo del del villaggio porta delle cose negli alloggi i due sfidanti decretano che comunque insomma visto il viaggio vista la giornata la partita inizierà domani e quindi semplicemente si siedono e si mettono a fare come dire una partita abbastanza informale semplicemente più che altro appoggiano le stone pietre chiacchierando e discutendo più che altro di alcune configurazioni quindi partendo ad esempio metà partita e gestendo un paio di mosse più per per conoscersi e per togliersi un attimo lo stress del del viaggio e io rimango che se non è se non è sgarbato io rimango ad osservarli anche durante queste prove perché sì sì vedete che nel momento in cui è arrivato il goban diciamo loro hanno sono entrati nella loro dimensione e voi siete diventati contorno e non disturbate assolutamente però non avete nemmeno la loro attenzione credo che stiamo lì un po sul bordo degli eventi un po tra 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 loro e la foresta e così c'è questa salita un pochettino messo meglio di quanto era dal dal villaggio che è più in là si vede la spiaggia all'orizzonte che ora è loro sono arrivati penso verso tarda mattinata perché sono partiti probabilmente all'alba dalla dall'isola del governatore quindi con una nave hanno giorni di viaggio comunque si dovrebbero essere arrivati verso matamattina che più o meno il viaggio che avevate fatto voi quindi adesso probabilmente passa il pomeriggio in queste in queste prime chiacchiere beh sono dunque noi siamo un po in disparte sono finalmente arrivati gli onorevoli e sono sollevato guardo la foresta io mi guardo attorno sono ancora inquieto per il marinaio scomparso questa è una cosa terrena forse c'è da inquietarsi sono inquieto per cose più più verso i cieli e guardo in su verso il vulcano io guardo la scacchiera guardo poi kitsune gentaro e shiba shinsuke e dico io sono inquieta per entrambe le cose beh ci troviamo d'accordo allora e il master se la ride intanto si sente che sto ridendo proprio tanto se possibile io cerco di o avere vicino o comunque di avere capacità di chiamare mail il più velocemente possibile nel caso bisogna si ha bisogno di disporre per la cena o qualcosa del genere o anche del tè o cosa del tè diciamo tutte quelle che sono le possibili necessità dei due sfidanti vedete che a proposito del tè dopo circa un'oretta che due samurai sono lì seduti a chiacchierare giocare o anche semplicemente come dire a godersi un attimo il silenzio di questo di questo momento perché vedete che la dimensione temporale di quello che stanno facendo e di come stanno vivendo questa cosa è assolutamente enormemente dilatata nel senso che passa un quarto d'ora di silenzio a un certo punto e se la cosa sembra assolutamente non metterà disagio nessuno dei due e anzi sembrano effettivamente interessati ed intenzionati a stare lì probabilmente o la scacchiera è arrivata a un certo punto tale per cui è il momento di meditare la prossima mossa o semplicemente stanno entrambi meditando sull'ultima mossa fatta e vedete che poi scambiano delle opinioni a riguardo ma appunto sembra che la dimensione del tempo sia molto rallentata e fa un enorme contrasto rispetto a il ritmo con cui voi avete vissuto le ultime le ultime settimane e come vi dicevo appunto dopo un po di tempo vedete che il servitore di caiu san che è un popolano di veneranda età che si presenta con il nome di peng viene a chiedervi dell'acqua bollente perché deve infondere il tè per il suo maestro probabilmente gli indichiamo la locanda e gli diciamo che è stato avvertito e che dovrebbe trovare quello che cerca e appunto vedete che caiu fuma abbondantemente la pipa e poi induge nel tè che gli viene preparato mentre togashi non sembra gradire nell'uno nell'altro e resta comunque concentrata sul gioco arriva senza un grosso problema la sera vedete che i due ospiti sono a loro agio nelle nelle camere che avete preparate vedete che probabilmente nessuno dei due aveva grandi attese per cosa aspettarsi la camera di doji se non mi sbaglio era stata ri e risistemata come ambiente come ambiente comune insomma in modo che potessero avere un ambiente privato eventualmente in cui chiacchierare oppure tratteni intrattenersi e nonostante l'età appunto caiu sembra abbastanza predisposto ad accettare dei compremessi anche se inevitabilmente la durezza del suo sguardo nell'impatto iniziale è evidente però come dire non fa in nessun modo leva sul sul fatto che la cosa dipenda da voi è ben conscio del del luogo in cui siete e quindi è ben disposto ad accontentarsi di quello che 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 qui è presente li faccio allora aspetta a un certo punto mi faccio anche baldanzoso perché abbiamo abbiamo fatto pervenire un monaco dall'altro lato dell'isola per appurarsi della della giustizia del giusto feng shui e fa un solito assenso con la testa come dire certo e è abbastanza preciso nei complimenti che vi fa non sono mai eccessivi però non manca ogni volta di ringraziarvi per la vostra solersia se volete in maniera un po asciutta però puntuale c'è etichetta ma non si inseriti esattamente esattamente fa ciò che è dovuto senza alcun trasporto e ma senza neanche recare per questa offesa a nessuno e fusa e nel momento in cui entra nella stanza la vedete subito affacciarsi su quella che è la finestra che da che da verso l'esterno e rimanere lì incantata a guardare a guardare la giungla e e poi ringraziarvi della stanza che è stata sicuramente un'ottima scelta nel momento in cui poi la porta si chiude alle spalle comincia a sentire il rumore di mobili che si muovono sul pavimento e da quale stanza da quella di fusa e ovviamente ok e basta la sera passa passa abbastanza tranquilla giorno dopo sarà come dire giorno di inizio del torneo quindi se volete passiamo a la mattina dopo senza nessun problema nel senso che voi probabilmente avrete qualche chiacchiere ma le vediamo direttamente direttamente in gioco nel momento in cui mi dite cosa avete preparato per per la giornata e soprattutto per i giorni a venire perché adesso come dire faremo dei balzi temporali visto che i giorni di questo torneo saranno molti e probabilmente per voi quasi tutti identici a tutti gli effetti estremamente noiosi e lenti per la maggior parte i demoni a parte quali demoni mai e la mattina inizia con il fatto che vi rendete conto che togashi fusa e sulla spiaggia praticamente un'ora prima dell'alba e arriva direttamente direttamente da là e da come come dire dal da come si presenta probabilmente andata a nuotare e i capelli fragici tutto quanto e caio invece si presenta puntuale per fare una colazione non eccessiva però molto ordinata e lenta metodica sempre con il suo servitore peng che probabilmente ha portato con sé qualcosa del continente per vedere di ricreare un minimo quelle che sono le abitudini di questo di questo anziano signore e i due contendenti diciamo si ritrovano nella pagoda nel nella prima mattina con i rumori della giungla il cianciare del degli uccelli che riempie l'aria il vento della mattina che muove le foglie e la prima cosa che fanno ovviamente lo scambio dei doni perché ognuno di loro ha portato qualcosa per il suo sfidante e vedete che senza come dire se la cosa non sembra assolutamente preparata però effettivamente avviene con un ordine come se non potesse assolutamente mancare ed entrambi fossero pronti per per questo il primo a portare il suo dono è caiu san e segue ogni volta il le tre offerte i due rifiuti e quello che vedete che caiu san offre non direttamente ma portato dalle mani del suo servitore peng è un una piastra metallica e vedete dal colore del riflesso essere probabilmente di quello che viene detto l'acciaio dei caiu che è una temperatura di acciaio che solo questa famiglia conosce e fa sapete che ne vengono fatte anche delle armi che sono estremamente pregiate e irripetibili e vengono tramandate con estrema cura come se non già ogni t ogni lama non sia tramandata con cura e in questa piastra vedete che sono incise a forza ma con una certa arte una serie di marchi in una posizione diciamo diagonale attraversare la piastra e se qualcuno di voi ha un qualche tipo di conoscenza che secondo voi può essere applicabile tipo potete tirare so che nilo a sage quindi potrebbe tirare a capocchia se qualcuno di voi ha go potete tirare io ho sia go che però qui me lo devi me lo devi dire tu ho cifratura no allora tira per go occo no io non ho nulla di storia tattica militare aspetta che sto o bottle no è che schifo di tiro nilo tu bo riconosci che effettivamente questi marchi potrebbero essere in qualche modo riferiti al al go ban e alle stone del go però non capisci cosa cosa vogliano rappresentare doji se vuoi per curiosità farmi un tiro sì cioè gli sta facendo un regalo inerente al gioco 19 ok e tu riconosci il lui comunque quando lo presenta e penso che voi siate a distanza di voce lo presenta come un una rappresentazione del del grande muro e tu guardando per quel poco che riesce a vedere il questa piastra è rappresentato come se fosse una partita di go quindi tutte queste incisioni rappresentano probabilmente le stone di una partita di go e hai l'idea che siano messe in modo da rendere la partita è estremamente possibile c'è molto in bilico esattamente vedi che ci sono tutta una serie di di impasse di blocchi che probabilmente l'ordine con cui vengono sganciati dal uno e dall'altro può portare al risultato un altro anzi probabilmente come dire potrebbe essere sicuramente una strategia molto macchinosa ma il risultato potrebbe dipendere da a chi sta la prossima mossa se al bianco al nero ok e poi lei invece tira fuori un piccolo scrigno di legno grande una spanna e profondo la metà e sa che cosa gli ha portato quella pazza del drago lo offre anche lì le sue tre volte solo la terza viene accettato e lei insistendo dice che questo dono è un dono che è molto legato alla sua famiglia da parte di sua madre e avrebbe piacere che appunto il suo sfidante lo possa tenere con sé e portatomi da mia madre che era del clan dell'unicorno della famiglia degli ide e voi sapete sono gli emissari e i diplomatici del clan dell'unicorno quando il clan dell'unicorno è stato per secoli in giro fuori dall'impero gli ide erano quelli che andavano a bussare alle città ganci che che incontravano erano quelli che andavano a trattare per il passaggio e sono stati quelli che alla fin fine sono riusciti ad acquisire le montature i cavalli che adesso sono i cavalli utaku che è comunque gli stalloni mostruosi che hanno portato in nell'impero clan dell'unicorno e quando caiu lo prende in mano e lo apre vedete che aprendolo i due i due lati della di questo scrigno compongono una scacchiera colorata e all'interno ci sono una serie di piccoli di piccoli pezzi che sembrano fatti in pietra in colori discordanti un verde cupo e un altro colore che invece sembra più un color crema ad esempio e sono intonati agli scacchi della scacchiera che viene disegnata dalla scatoletta aperta e togashi fusai dice che questo è un gioco che mia la nonna di mia nonna ha riportato nell'impero dai suoi pellegrinaggi nelle terre ganci e è una variante abbastanza abbastanza semplificata del shoji però ha delle connotazioni interessanti e quindi sì mi offro di insegnarvi questo passatempo e vorrei che lo teneste per voi e i giocatori e il pubblico che guarda la scena ma non i personaggi riconoscono il gioco degli scacchi occidentali infatti ti stavo chiedendo c'è un cavallo una torre era chiaro e fate queste queste formalità togashi invoca una breve preghiera e dopo di che la prima pietra clic viene appoggiata sul gobann con il classico suono il gobann ha anche una qualità acustica e una cassa di risonanza fatta apposta per prendere il gesto di posizionare la pietra come dire soddisfacente e inizia la partita ditemi voi come avete predisposto le prossime giornate a venire qual è il vostro la vostra organizzazione dove siete voi disposti in generale poi cominciamo a vedere cosa succede nei prossimi giorni allora beh se siamo in due come abbiamo stabilito ditemi anche voi direi che uno uno dentro e uno fuori e uno nel giardino magari via attorno alla pagoda c'è uno proprio di ronda nel vero senso della parola e uno invece proprio dentro a ad osservare quello che succede all'interno considerate pure che al centro del giardino io poggio la la gabbia del gufo al quale gli tolgo i piatti dagli occhi e gli lascio soltanto soltanto sopra tipo una seta o qualche cosa del genere così che non venga bruciato dal sole se sta fuori lì delle giornate e le notti fondamentalmente lo posiziono in mezzo al giardino e se posso comunico con il suo spirito e voglio 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 dirgli di fare un certo tipo diverso con il quale magari io comunico con lui se se entra qualcun altro che non noi tre il servo di di caio cioè qualcun altro che le poche persone che il gufo è furbo il gufo secondo me lo suo spirito perlomeno se riesco a comunicarci riesco a fargli venire il concetto del se entra un estraneo in questo giardino tu fai tu riesci a comunicare questo ovviamente tutto il tempo il modo e le abilità per farlo ma gli spiriti sono comunque volubili quindi lo spirito per farlo ti chiede innanzitutto di essere libero beh guarda e quindi vuole uscire dalla gabbia la gabbia è lì come posto se hai bisogno di un ok è aperta dal sole è aperta la gabbia gli apro la gabbietta c'è gentaro che sta parlando col gufo e sembra che ci sta in qualche modo litigando ok vedete il gufo allontanarsi poi sulla sulle fronde degli alberi e sì a quel punto diciamo non avrai certezza della della sua facoltà di concentrazione però l'idea gliel'hai passata adesso parlando ai giocatori io vi dico questo perdon ultima cosa ultimissima magari il primo giorno dato che siamo tutti un po più freschi perché abbiamo tutti dormito eccetera eccetera proverai comunque a quello di noi che non deve fare la guardia a avviare una breve ma intensa investigazione su dove cazzo potrebbe essere finito il marinaio ok solo un fare una ronda attorno al villaggio e cercare tracce sospette che si che vanno verso la foresta segni di scontro potenzialmente chiedere un po in giro ok se l'hai mangiato isaki e un'altra cosa invece posso dirvi che questo ve lo dice comunque peng che fa in qualche modo da da intermediario nel senso per quelle cose che non sono non sono comunicati ufficiali però magari aiutano ad organizzare la giornata da quello che lui dice probabilmente parlando poi con giochichi e meili per organizzare i pasti e il ritmo della giornata sembra che loro abbiano intenzione di giocare dalla mattina abbastanza presto fino praticamente alle prime ore del pomeriggio e poi quando interrompono per fare per fare il pranzo salvo eccezionalità interrompere e riprendere la mattina dopo quindi fate conto che giocheranno circa 6 ore al giorno abbastanza sbilanciate verso la mattina presto quindi a iniziare dalle 7 di mattina fino ad arrivare a luna di pomeriggio perfetto dunque non dobbiamo disporre braceri e cose del genere per se vogliono giocare la notte quindi ditemi voi anche poi in funzione di questo cosa vogliono dire i vostri turni nel senso che se li fate ancora e come vi disponete poi nel momento in cui allora loro non sono alla pagoda oppure sono in giro e che di notte pure dobbiamo guardare le loro stanze dunque perché la cosa comunque che vi è chiara e che che diventa chiara dipingendo probabilmente l'orrore l'ansia nei nostri volti è che nel momento in cui il gioco è finito i contendenti comunque prenderanno le loro libertà quindi allora allora i turni sono ancora più necessari perché se uno sorveglia diciamo lo spazio temporale dedicato al gioco chi poi subentra diciamo nel turno successivo significa che significa che subentra nel ruolo di guardia del corpo tra virgolette e nello spazio temporale ancora successivo cioè quello notturno ce ne deve essere uno ci deve essere uno di noi che è sveglio purtroppo per lui e sta nella locanda a tirare i noccioli di olive dentro ai bicchieri e sperare che la notte passi presto e senza problemi dietro allo scoiattolo di gentaro ok c'è un problema appunto che vi dicevo è che comunque loro non quando non giocano non stanno insieme nel senso che probabilmente caio si ritira nelle sue stanze dove vedete ha fatto portare comunque parecchie parecchie rotoli pergamena carte e libri e se vi fate un'idea di cosa sta facendo e line da farato a leggere dei rapporti e fare fare calcoli e scrivere appunti personali probabilmente si sta dedicando a quello che è il suo lavoro e mentre togashi fusa e la vedete passare il suo tempo a meditare o allenarsi sulla spiaggia principalmente la nostra comodità è che siamo tre quindi in qualche modo ci si può dividere cioè guardia diciamo durante la sezione di giorno che è la piccola del gioco nel momento in cui finisce gli altri due possono dedicarsi alla guardia dei due contendenti nel frattempo il primo se ne è andato a letto sì in qualche modo vi turnate fondamentalmente da essere sempre in due attivi e uno che è rifiata seguo kayu doji segue togashi praticamente io in questo modo mi faccio il turno di gioco e il turno di pomeriggio chiamiamolo così di guardia nilo si fa nilo kizune si fa notte e gioco e doji si fa sempre pomeriggio e notte una cosa simile sì ci scambiamo fondamentalmente ma probabilmente non sarà poi nemmeno così rigido nel senso che mi basta solo un'idea di della filosofia che usate quindi fondamentalmente in due sempre attivi quando loro si dividono uno segue ognuno e poi la notte comunque uno o due sempre attivi comunque a fare come dire guardia alla locanda in pratica dividi ed impera si versione rock o gun perfetto io adesso dico ai giocatori come funziona la cosa cioè il vostro compito è fare che la partita si conduca nella totale serenità il che vuol dire che se per più di due volte il gioco viene interrotto per qualsiasi tipo di motivo venite meno a quello che è il vostro l'ordine che vi è stato dato e dunque se ci sono guai li teniamo fuori dal muretto almeno simbolicamente non vengono disturbati guai ma ma anche molto prima dei guai nel senso che se nella locanda viene giù la la come dire la cassettiera delle pentole e fa un casino tale che si sente nella pagoda questi potrebbero essere distratti e conta uno ok prepariamoci a tagliare la testa guardo 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 il basso della sabbia quando facciamo questo discorsi cioè qui si rischia di far fare a isaki la fine che ha fatto il daisho del ronin è tipo quando sei al bar e c'è il povero amico che tiene lontano l'ubriacone di turno perché non si vuole che si sieda al vostro tavolo ok e quindi ecco questo è quindi a e come dire senza fuori scala nel senso che non si considera neanche nell'ordine di grandezza di un'interruzione qualsiasi violazione del della convivenza pacifica quindi ovviamente qualsiasi atto violento oppure destabilizzazione della dell'ordine pubblico di questo piccolo villaggio ecco tutto questo è assolutamente fuori scala insomma nel senso che è indubbio che questo termina definitivamente le premesse per poter giocare nel senso che vabbè ma finora è stato tutto tranquillo cosa vuoi che succeda ok questo era per dare per darvi comunque un metro di misura di quello che dovete fare quindi e ruta il vulcano e ruta il vulcano tutti a casa è andata male ragazzi mi dispiace dovreste portare la vergogna di questo nel vostro cuore nel vostro curriculum a vita no ecco appunto il discorso è che loro sono qui da ospiti e devono appunto vedere il tutto più tranquillo pacifico e sereno possibile quello che succede quando loro non vedono è affar vostro ma loro non devono percepire assolutamente nulla di fuori posto capito prepariamoci a misure drastiche va bene dai il popolino ci vuole bene no quell'altro tizio su al monastero dorme non c'è problema fino alla prossima luna piena ok e nel pomeriggio del primo giorno comunque verso poco prima che i giocatori finiscano il appunto la loro prima permanenza nella pagoda la prima parte di questa loro infinita partita che arriva il suo passo abbastanza cadenzato e un sorriso in faccia il kokoro attraversa il villaggio attraversa il villaggio e si pone in maniera molto educata fuori dal muro di cinta della pagoda e con le braccia con le mani dentro le maniche della sua tunica in attesa con le braccia concerti aspetta che i giocatori finiscono per probabilmente potersi presentare ci sarà uno di noi appostato lì di fianco non si immagino ma effettivamente lui porge i suoi saluti a voi e fa anche qualche bisbiglio molto molto educato sul riapprezzamento sul fatto che il tutto è messo bene in ordine che effettivamente con la povertà di mezzi che avevate e su questo un po dice avete fatto un buon lavoro mamma mia che centralina che gli darebbi facciamo così io non ci sono in questo caso sono gli altri due che ci sono abbiamo detto che siamo lì io e io e lo shiba giusto beh allora gli dico beh sì abbiamo messo il tutto il meglio possibile nulla come il vostro arraggiante e meraviglioso monastero nuovo sorride e dice voi siete troppo cortese avreste dovuto vedere la mia dimora prima che indossassi questi poveri vestiti monacali buscio de culo che ci hai avuto verso verso Merokugan e vedete che ovviamente c'è proprio la come dire la sfrontatezza degli yazuki di parlare di ricchezza in maniera sfrontata cosa che nessun samurai oserebbe argomento che nessun samurai oserebbe toccare in pubblico il dire ma io ero ricco punto ok passa appunto quando gli sfidanti concludono la loro partita vedete che coro comunque lui non sapeva cosa voi stavate facendo e non sembra interessato entrare nell'argomento semplicemente si presenta con ampi giri di parole a entrambi gli ospiti vedete che come quando siete arrivati voi ha un'ottima dialettica nel nel gestire appunto il situazione gli incontri sociali e riesce anche in qualche modo a parlare in maniera coerente con fusa e probabilmente ha già incontrato qualche o forse più di uno membro del clan del dragone dunque non fa mai il passo falso di di essere spiazzato di rigidirsi di fronte a un comportamento un cambio di attenzione da parte del suo interlocutore e fatto questo vedete che semplicemente rinnova i suoi saluti e poi si ritira non non è intenzionato a rimanere a rimanere oltre quindi fa un breve inchino aspetta si si ce lo lascio quando quando se lo accompagna al di fuori del del perimetro vedete che che altro poi fa qualche chiacchiera anche in maniera un po più un po più diretta con caiu san perché appunto nel momento in cui caiu scopre che lui è uno yazuki quindi un ex samurai del granchio scambiano qualche chiacchiera più diretta e viene fuori poi oltretutto che entrambi hanno diciamo che caiu sta ancora servendo a chiude in chida che è il castello degli ida quindi il castello principale della famiglia più importante del clan del granchio e yazuki vedete che quando parla con lui in maniera un po più informale anche perché l'età di entrambi lo consente un po come dire da vecchi camerata dice che effettivamente ha avuto l'onore di gestire le forniture per un po di anni anche per lo stesso appunto chiude in chida la capitale in pratica e e quindi viene fuori che ha conoscono parecchia gente in comune aspetto pazientemente che concludono le loro si condividono probabilmente un ten del primo pomeriggio e poi si allontana da questa chiacchiera bello accompagno verso arrivato con la barca certo accompagna verso il porto c'è il soggio jimbo lì sulla nave si lo tende sulla nave beh prima che arriviamo da lui gli dico vabbè onorevole coro voi avete idea perché il folle del villaggio qui isaki aveva menzionato a farfugliato qualcosa di voi non che io ascolti qualsiasi cosa da lui detta su di voi però forse forse potrebbe essere interessante l'incontrario sapete qualcosa su questo su questa figura del villaggio perché non vorrei che disturbasse la quiete il feng shui e tutte queste cose qui e gira lo sguardo cercando di vederlo in giro e vedi che guarda in posti assurdi quindi guarda sulle cime degli alberi guarda allontanato sulla spiaggia non conosce guarda anche verso il mare e dice io non so che si sia rotto in quel mezzo uomo ma quando sono arrivato qui era già a pezzi e per quel che mi riguarda la sua funzione nella ruota celeste se mai l'avesse avuta ha smesso di funzionare da un bel po se fossimo in altri ambienti sapete anche voi come sarebbero trattate certe difformità e lui incrocia l'agentario incrocia le braccia e fa ha detto qualcosa di magia del sangue e vedi la reazione di ok se vuoi tirarmi un tiro di percezione ma lui è assolutamente sereno a riguardo anzi si preoccupa nel momento in cui tu la nomini perché non è cosa che si si lo so che si nomina no però poi vedi che appunto assorbe istantaneamente questa questa cosa vedendoti per non far sentire fuori luogo la cosa e dice e motivo in più per chiudere le cose chiudere le cose e lascio però in senso gli sto chiedendo come comportarmi con isaki che forse lo conosce sembra che lo conosce dunque si l'ha visto probabilmente passare o cose in giro e lui ti farei no lui sta accennando e ci prova in in maniera come dire non esplicita però se nel momento in cui fai cenno di non capire dice che è obbligo del di coloro che sono qui a servire dei samurai ma anche di tutti quanti gli altri avere un certo decoro e quando questo viene meno viene meno la funzione il servizio che hanno per l'impero almeno così si dice nelle terre del granchio dunque se fossimo nell'impero e quest'isola ne hai ai bordi più lontani ma se fosse un po più vicino al cuore dell'impero la vita di isaki sarebbe già conclusa in modo che la sua anima possa reincarnarsi in qualcosa di più degno se le sue gesta sono state onorevoli in questa vita come poi per noi tutti allora si inchina lui ha certo cercando di capire con investigation che tirato anche se mi sa che la sua etichetta tipo mi spara sulla luna però no vedi che abbastanza determinato a non a non scadere nel ma capro però insomma secondo lui esaki doveva essere ucciso un bel po di tempo fa nel momento in cui ha dato di testa poi senti il villaggio è di 20 anime fan e 19 fa brutto e vabbè soprattutto perché lui è libero di fare il monaco e chi se ne frega però se ci fosse un autorità qui responsabile del villaggio col cavolo che questo pazzo se ne va in giro mi inchino e faccio per congedarmi e così e poi all'ultimo momento mi giro e faccio però come diciamo noi nel kitsune no mori a volte la linea tra saggezza e follia è davvero sottile ho sentito cose molto simili nelle terre del dragone e annuisce e guarda incantato l'acqua immaginandosi forme nuotanti va bene e e e e e e